Questo è l'articolo del giornale sul quale parlavo nel video precedente, in cui il professore, a distanza di sei mesi, è passato da un'aspettativa per la Terra di mille anni ad una di cento anni e chiede pertanto alla NASA di colonizzare un altro pianeta. Ecco, poi ognuno avrà modo di leggere con calma l'articolo, ma quello che mi interessava far sapere era appunto il contenuto dello stesso, che evidenzia come tanti altri esperti illustri hanno dichiarato per motivi diversi altre date, dal 2030 al 2024, o per via di asteroidi, o per via di implosione della Terra o altro, che caratterizzano appunto la fine della vita sulla Terra e per cui la nostra stessa fine. Ecco questo è l'articolo, come già ho detto, ma serve soprattutto per evidenziare una cosa, che anche se ci fosse la possibilità di trovare un altro pianeta, come dice poi lo stesso professore qua nell'articolo, manderebbero su un gruppo di persone per salvare almeno una parte, una piccola parte, o non fare estinguere l'umanità, gli uomini, ma gli altri 700, 7 miliardi e 400 milioni che fine farebbero. Ecco, per dire, ci vuole un altro pianeta, ma comunque sia, anche premesso che ce la facciano, perché lo stesso professore dice che, ovviamente, gli uomini non hanno una tecnologia ancora adatta per colonizzare un altro pianeta, tant'è che dice che per colonizzare Marte ci vorrebbero almeno 100 anni prima di renderlo abitabile, ma il punto fondamentale è appunto quello che ho detto prima, 7 miliardi, quasi 7 miliardi e 400 mila persone sarebbero destinati comunque sia a morire.